Scusa, hai visto Marina? Orso, non riesco a trovare Marina, mica l'hai vista. Orso, che hai visto Marina? Scusa, hai visto Marina? Di là? Va bene. Volete scommettere che sta in liberia? Vai Alessio, stringi, stringi, mi dicono che è finita, sì. Faccio vedere io quanto è finita. Stringi, stringi bene, stringi bene, voglio vedere se riescono a liberarmi. Altro che è finita. Faccio vedere io quanto è finita. Marina, è finita! È finita, è l'ultima puntata. Dai, è finita. Non fare così, dai. Marina, è finita, è finita.